L'insieme dei pensieri Cerchio Firenze 77 Attraverso Roberto Setti Dizionario del Cerchio Firenze 77 A cura di VB Ambiente psichico 163D 68G L'insieme dei pensieri in qualche modo simili crea l'ambiente psichico comune alle persone che hanno quella comunanza di pensiero E non si tratta solo di pensieri ma anche di sensazioni, di desideri per quanto l'attività del corpo astrale concorre a formare l'ambiente psichico Sono dunque tanti gli ambienti psichici secondo vari livelli Ognuno si trova automaticamente nel suo Riceve la stazione radio diciamo con la quale per sua naturale predisposizione è sintonizzato 180G vedi anima della terra vedi telepatia 181G 203G 229G 33 ov-0Q2 872G 336G 352 352 358 356 356 369 378 37fäh9 399 399 379 404 Grazie.